Il serial killer Saw sarà anche morto, ma la carneficina continua. Tu credi che sarà la vita a pronunciare il giudizio finale su di te? Perché la morte non avrà diritto sulla tua anima, ma commetti un grave errore. Che cosa vuoi da noi? Voglio giocare ancora. Saw 6. Dal primo giugno al cinema.